è stata una conversazione di fratelli che parlano ma con tutta libertà io sentivo una gioia interiore era proprio del signore no l'unità si fa camminando come uomini di fede desideriamo unire le vostre voci per parlare apertamente a nome vostro la via della croce è l'unica che sconfigge il peccato il male e la morte chi la percorre semina speranza anche se chiude la porta santa rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia che il cuore di cristo